www.mariziopoli.it e ne dico la settimanale Mondovadano anche in digitale su www.modovadano.it ecco qua nell'inserto economia e lavoro nella rubrica risparmio e finanza nuovo articolo di Giuseppe Andelli che ci fa un focus dopo gli anni della pandemia nuove abitudini di consumo e nuovi trend di risparmio siamo tornati a vivere, sì, teatro, cinema, concerti e eventi sportivi dati in età di ripresa ma, ma, ma la lettura di questo articolo è interessantissimo e ci parla anche l'esempio della cura dei pet, dell'animale domestico che quindi è un'indagine della DOCSA che ci fa un focus sugli animali domestici ma anche sul mondo della protezione patrimoniale e assicurativa rivolta agli amici che abbiamo in casa, cani, gatti e quindi animali di affettività e si conclude sempre che investire con successo significa anche anticipare l'anticipazione degli altri buona lettura